Parliamo di una cosa serissima, lo dobbiamo fare per noi stessi, per la nostra famiglia, ma lo dobbiamo fare anche per la nostra San Salvo. Anche San Salvo si prepara allo screening di massa. Ci si potrà sottoporre ai test rapidi antigenici sabato 23 e domenica 24 gennaio in una delle cinque postazioni allestite nel comune in provincia di Chieti. In caso di esito positivo ci si sottoporrà alla conferma del tampone molecolare. È uno strumento di prevenzione fondamentale e lo è ancora di più in questo momento per la nostra città che è stata particolarmente colpita da casi positivi e ahimè in questo momento si registrano anche alcuni casi di nostri concittadini che si sono ammalati in maniera seria. Chiunque potrà partecipare, purché non si sia già in attesa dell'esito di altro tampone o siano manifesti sintomi influenzali. Lo screening infatti è un ammezzo totalmente gratuito per il cittadino volto a tracciare in primis le asintomatici. Non occorrerà prenotazione ma bisognerà munirsi del modulo scaricabile dal sito del comune, tessera sanitaria e documento. L'invito che l'amministrazione comunale fa alla cittadinanza è quello di partecipare davvero in tantissimi perché questo strumento di prevenzione è fondamentale per poter interrompere la catena del contagio. Grazie. Grazie. Grazie.